benvenuti in questo nuovo video in cui ci addentriamo più a fondo nel mondo contorto di sarò ricco bono e scopriamo i segreti che lo hanno condotto alla sua rovina dalla sua scesa al potere negli anni 70 alla sua alleanza con i famigerati boss stefano bontate e salvatore in zirillo fino alla sua rovina per mano dei corleonesi prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato ti ringrazio anticipatamente se lo farai ora cominciamo classe 1929 palermitano era conosciuto come il terrorista perché a palermo e dintorni bastava un'occhiata o una parola di troppo per essere condannati a morte da rosario sarò ricco bono potente boss del mandamento partanna mondello crudele e anche un po' satico infatti amava assistere spesso alle esecuzioni delle sue vittime faceva parte dei più potenti boss della commissione di cosa nostra degli anni 70 si alleò a stefano bontate il principe di villa grazia a salvatore in zirillo boss della cosca di passo di ricano con i quali trafficava eroina e faceva crescere il suo mandamento quando i due boss furono eliminati nel 81 non ebbe problemi ad allearsi con la mafia vincente quella di corleonesi di rina sarò ricco bono era un boss molto rigoroso nell'osservare le regole di cosa nostra era molto carismatico e autorevole infatti era molto rispettato nel suo ambiente criminale alleato con bruno contrada uomo della squadra mobile di palermo e facente parte del sisde con cui aveva favoreggiamenti a livello istituzionale aveva potere amicizie di peso e molta considerazione dentro cosa nostra la sua famiglia il suo mandamento non venne infiltrato infatti dai corleonesi come era successo alle altre famiglie di palermo infatti dei mille morti a palermo nella seconda guerra di mafia nessuno apparteneva alla famiglia di partanna mondello questo lo faceva sentire un intoccabile ma tutto questo fino alla fine di novembre del 1982 quando rina che stava conquistando palermo eliminando tutti i suoi rivali capì che il terrorista sarò ricco bono era molto pericoloso per la sua scesa al potere così gli tese una trappola fu invitato alla tenuta di favarella di michele greco il papa dallo stesso dallo stesso dotorina dicendogli che c'erano altri illustri di cosa nostra ed era un evento non di affari ma un modo di stare insieme prima delle feste natalizie ricco bono accompagnato dai suoi uomini più fedeli come salvatore michalizzi giuseppe lauriciella e francesco cosenza si prendo a favarella accolto proprio da salvatore rina e passarono il pranzo ad abbuffarsi senza pensare agli affari dopo il banchetto era consuetudine fare un riposino nelle stanze della casa che era molto grande molto accogliente c'erano moltissime stanze poi d'altronde si trattava di tutti amici perciò un riposino non avrebbe fatto male a nessuno ma fu proprio quello il momento che irina e suoi stavano aspettando infatti quando sarò ricco bono i suoi stavano riposando chiamò bernardo brusca il figlio giovanni giuseppe giacomo gambino antonio madonia balduccio di maggio e pino greco scarpuzetta e attaccarono i suoi rivali ricco bono e li strangolarono nel sonno a come hanno raccontato alcuni collaboratori presenti una volta che vennero uccisi furono denutati e addirittura bruciati nelle griglie dove prima avevano cotto la carne per il banchetto poi tutti i loro resti vennero buttati nell'acido nello stesso pomeriggio altri sigari di corlonesi erano stati inviati per sterminare tutta la famiglia di partanna mondello decapitando anche il fratello di sarò che non centrava niente con quel mondo fu una grossa azione criminale commessa dai corlionesi avevano eliminato un boss molto pericoloso che era passato alla loro parte i collaboratori di giustizia hanno anche detto che rina si vantò di quel fatto quel giorno dicendo che erano stati più bravi degli americani nel massacro di san valentino bene questa è stata la fine crudele di uno dei boss più importanti di cosa nostra sarò ricco bono tanto sicuro di sé ma non aveva fatto i conti con le ambizioni la crudeltà di uno dei boss più sanguinari della storia del crimine spero che il video vi sia piaciuto e vi sia piaciuto scoprire come il mandamento di sarò ricco bono abbia incontrato la sua fine se ti piacciono questi contenuti iscriviti al mio canale spero di rivederti presto nei prossimi video grazie